Ferma, ferma, ferma! Posso arrivare una cosa a cavallo? Santità, ho trovato la soluzione per annullare la maledizione. Sì, finalmente può tornare uomo. Non ho capito. No, è sobrio, ma la slancia. No! Ora, posso togliere questa roba che fa caldo? Dai! Vai, è finito, forza, dai, corri che tempo sta qua sempre a scadere, vai! No! 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 Grazie a tutti.